Papà, dove sei stato tutta la settimana? Non mi piace quella faccia. Che ti serve? Voglio comprare una bicicletta e fare gara con Abdullah. Hai mai visto una ragazza in bicicletta? Che fai? Ridammelo! Vieni con la testa coperta domani. O dovrò riservarti un trattamento speciale. Il primo film diretto da una regista donna saudita. Haifa al-Mansur. La bicicletta verde. Venerdì alle 21.10.